Allora Ginelli, dove andiamo oggi? Dove andiamo? Bene, inizia oggi questa nuova avventura. Siamo negli anfratti, nelle grotte, verso il monte Zingla. Come vedete alle mie spalle. Siamo saliti dal Passo Cavalino della Fobia, partendo da Vobarno, ed ora ci dirigiamo verso il monte Zingla per fare poi capolinea in quel del Campei, dove c'è un bellissimo rifugio, poi torneremo giù a Valle. Quindi dai 1150 metri inizia il portai verso il monte Zingla. Questa è l'ultima parte per la cima alla Zingla. Vedete, dovremo salire su questa roccia. Dicevo è tanto più duro ma si fa. Siamo quasi giunti in cima al monte Zingla. Eccolo là, avvolto nei numi. Guardate là davanti a noi, la diga della Val Vestino. Siamo finalmente in cima al monte Zingla, che ha voluto circa quasi un'ora di portage a spinta sulle creste, ma il panorama, seppure ci sia nuvoloso, è davvero spettacolare. Guardate il monte Manos, il monte Karzen, e là abbiamo il Garda Lake. E là dietro che spettacolo. E là dietro si intravede la biga della Val Vestino. Guardate che meraviglia. Inizia la discesa vertical dallo Zingla. Occhio a non lasciarla troppo scorrere. Guardate che super vertical. Occhio qui. Avremo una piccola ferrata, ma abbiamo l'appiglio, quindi ci possiamo appigliare. L'ho mollato, mi raccomando. Passi con cautela. E si fa. Passiamo nella grotta. Wow. Little trail vertical dallo Zingla. Wow. Yes. Yeah. Yeah. My riccola. Iscriviti al nostro coraje. Il habitanto è? È appmazza. Sonoollo con welespresso. Buon momento è Joseph. Come è stato. Grazie a tutti. Ed ora il traverso per il Campey, il Campey di Sima, trailerino. Guarda ragazzacci, questo è il sound che piace a noi. Bello. Guardate che selvatico. Abbiamo un po' di vertical. Mind. Bello. Swirl. Guardi, guardi ragazzi. Si scuda anche in discesa. Bello. Pogliage. Wow. Bellissimo. Bellissimo ragazzi. Leggermente sporco in qualche punto ma non più di tanto. Wow. Bello. Bello scrocco. Bello scrocco. Watching. Wild. Child. Wild. De la panci. Aspettacolo ragazzi. Allora siamo al Campey. Allora siamo al rifugio Campey. Quella è la chiesa della Madonna della Neve. Siamo a circa 1030 metri. Ed ora scendiamo. Guardate là. Sempre il Gardaleg e il Monte Pizzocolo. È il 279 e da qui si parte. All right. Open fire. Woo. Tra poco. Giungeremo al Prato della Noce. Vi ricordo. Che queste discese larghe. Ma smosse. Sono comunque da prendere. Con le opportune cautele. Perché ci sono. Delle buone possibilità. Che le gomme slittino. Sulla. Questa ghiaglina. Quindi mi raccomando. Lavoriamo bene con i freni. Non inchiudiamo troppo. E moduliamoli il più possibile. La Magga Prato della Noce. La Degagna. Discesa larga e semplice. Ma insidiosa. Dalle pendenze impossibili in salita. Da fare solo in discesa. Guardate che pendenza verticale che ha. Wow. Che chiamo di salto. Wow. Ecco. Il punto di osservazione della cascata. Qui in Degagna. Guardate che meraviglia. Che laghettino. Wow. Sul ponticello. Wow. Via. Si ricomincia. Si ricomincia. Con un lieve rilancio. Poi si scende. Bellissima ragazzi. Ecco. Adesso si scende. Pronti? Open fire. E ora si ritorna su Ghiaioni. Watch it. E ora si ritorna su Ghiaioni. Bene, sono con il mio amico Ciuchi. Oggi abbiamo fatto un giro di Pura All Mountain. Siamo saliti in cima al Monte Zingla. Vi ricordo che la salita è veramente dura e soprattutto anche pericolosa in alcuni punti. Quindi un tour non alto tutti. Poi metteremo nella descrizione anche la versione più easy per aggirare il Monte Zingla. ed arrivare comunque al rifugio Campei che è un bellissimo posto dove ammirare anche il Garda Lake. Spettacolo. Vi ricordo se vi è piaciuto il video di mettere un bel mi piace qua sotto. Ma soprattutto ragazzi iscrivetevi al canale perché ne stanno arrivando delle belle. E oramai siamo in stagione piena. Alla prossima. Spettacolo. Yeah.